Una giornata speciale, 13 dicembre 2022, dico da ricordare perché finalmente riusciamo a presentare la nostra testa del socio in presenza, quest'anno abbiamo l'onore di avere una parte del Piemonte, l'Alto Piemonte, le province di Novara, Biella, Vercelli e Verbagno Cusiossola, grazie all'intuizione della Camera di Commercio di Novara e del suo presidente Ravanelli, siamo riusciti a veicolare attraverso questo strumento un messaggio promozionale di una parte del nostro Piemonte, per cui i 500.000 soci, il milione di famiglie che in tutta Italia vedranno arrivare la tessera avranno la possibilità di conoscere nel tempo questo bellissimo territorio. La tessera è un archivio di valori, abbiamo un archivio di valori come l'appartenenza, la bellezza dei paesaggi che custodiamo, la comunità che hanno tutte le nostre persone coinvolte perché comunque il mondo del volontariato è un mondo importante e il tempo che doniamo al tessuto sociale è un tempo unico, siamo orgogliosi di tutti i nostri soci, di tutti i nostri volontari che spesso levano il cappello di proloco e si mettono a quello di protezione civile e quant'altro vogliamo. Sono contento per il mio Piemonte, io ho l'onore di rappresentare questo dipartimento a livello nazionale ma non posso che essere orgoglioso di vedere la mia provincia, il mio Piemonte su questa tessera. Sicuramente saranno tanti i vantaggi che ci porteremo a casa perché comunque la tessera del socio è anche un veicolo di opportunità commerciali grazie alle convenzioni ad esse collegate. Ogni socio può risparmiare più di 1000-1500 euro attraverso tutti gli sconti che ci sono qui dentro.